Allora ragazzi, siamo ritornati, allora devo andare giù, ma non c'è una cassa qualcosa per le munizie? Ah ma si che c'è, no non c'è, metta quel cazzo ok, andiamo Ok Olle Ok, vediamo qua cosa c'è da fare, un secondo che guardo l'audio, se mi è rimasto salvato, si si si, ok Forse c'è gente Oh madonna Oddio ma sparano a me Cazzo Ah ma sanno già che sono qua io, ok Non lo vedo Ma l'ha colpito lei? Può essere No Pazzo non vedo niente Dov'è? È qua, è qua, l'ho sentito Eh vabbè, ne avete sparato voi per primi eh Eh vabbè ma sei sfigata eh Ma dov'è che sei? Ora ti faccio il culo Adesso sei morto stronzo, hai capito? Ma è qua? Eccolo qua, eccolo qua Ce l'ho sottotiro Dov'è il cecchino? Ah ok, l'ho sottotazione, commetto che troverai qualcosa di interessante Ah ok, l'avevamo Ok Troverò qualcosa di interessante Devo andare su però Speriamo Vediamo Oh la tavola qua c'è Cos'è? Oh caspiterina Un cecchino Ma sai che mi servirebbe un cecchino? Cioè Mi servirebbe proprio Quelli del treno hanno occupato la stazione e impiazzato delle sentinelle all'esterno Saranno una dozzina Non sono ben organizzati Continuo a osservare Ok, puliamo tutto Uno di quelli del treno si sta muovendo con un furgone Sembra sia quello di Sop Il capo dell'avamposto delle rovine Ho provato a contattarli via radio Ma non ho ricevuto risposta La cosa è sospetta Quel canno là Ho piazzato un cecchino nella nostra vecchia postazione al viadotto Dove un paio di mesi fa si erano nascosti negli schiavi fuggiaschi E' occupato a coprire la strada E il figuro non mi ha visto Ok Ah, aspetta, devo pulirlo E' una sparatoria in corso al faro Credo che i ragazzi stiano di nuovo in seguito con la tizia Questo è il cecchino Dai, proviamolo, ok, dai Chissà di cosa staranno valgando Aspoltate doppio Ok Ehm Non ho sbagliato No, questo, questo, ok Ok Ah, non ho la maschera Aspetta, aspetta No Cazzo Merda Dov'è? Oh Ah Madonna Cazzo Non spara Ma porca puttana Che devo ricaricare io Perché non l'ho colpito? Eh che cazzo Uccisi tutti? Speriamo di sì Vedi che mi è servito farmi il cecchino Mi hanno già distrutto la maschera Dai L'avevo appena riparata Ma porca Eh, io non ho più Aspetta, fammi vedere No, devo vedere se posso ripararla di nuovo Che palle Anche io che cazzo Ma mi serve la maschera qua poi Vediamo se posso ripararla ancora Non credo Ok, sì Ok Però entro io non mi serve, no? O mi serve per la sabbia? Qua mi provo a toglierla Ah Dove devo andare? Vabbè, andiamo dal capitano Devo ritornare là, giusto? No, aspetta Dove cazzo devo andare? Ah, là Ah, ok Devo ritornare là E come faccio a salire ancora? Ah, da qua Ok C'è dal capitano del colonnello Coglionello Oh, munizia Perfetto Oddio, qua cosa c'è? No, non si può andare qua per niente Ci deve essere qualcosa Un'arma E delle munizioni Non saprei cosa sia Cos'è questa arma? Sembra carina, cacchio Ho appena potenziato questa Vabbè, sti cazzi Questa è 1000X Mi piace un botola Magnum a me, raga Ok Perfetto E andiamo dalla nostra compagna Da qua, giusto? Sì Velo Qua Adios, baby Perfetto Sono ritornato E vi... Ah, ma è sparita lei Ma vaffanculo Oh, nemici Fammi provare quest'arma Porca puttana Aia Che cazzo Ah, è vero che lanciano Vabbè Ci sta Fanchiulo Qua c'è qualcosa Si dice qualcosa Oh Altro Oddio Questa che cazzo di arma è? No, vabbè, raga Pazzisco Ok Cioè, incredibile Va bene, va bene Andiamo Aspetta, quanti medic Ho tre? Va bene, va bene Andiamo, andiamo Andiamo dal capittino Che è dritto, ok Ah, non si può sonnare i klaxon Che cazzo ha rotto? Il treno è là sopra, no? O è qua? Cos'è? Dov'è il treno? Ok, di qua, di qua Eccolo là Oh Perfetto Ci sono ragazzi Oh, madonna Che buio Sono qua, sono qua Dai, dai Vieni dentro Ah, devo sedermi Oltretutto di sale Va a fare pure la sale Bene, qui mille Passo e chiudo E trovate Ottimo lavoro Ottime notizie Arti o male mappe Bravo Ottimo Ah, meno male Idiota Datti da fare con queste Io arrivo tra un po' Ecco Ci sono molti dati Prima li analizziamo E meglio è Abbiamo le mappe Ora dobbiamo trovare il modo di andarcene da qui Questa è la parte difficile Ci serve acqua per l'aurora e per l'equipaggio Le persone cominciano a disidratarsi E la situazione può solo peggiorare Ci serve anche carburante I banditi del posto hanno tutto Ho già contattato il loro cosiddetto varone Ma ha proposto delle condizioni Condizioni inaccettabili Jul ci ha detto dove prendono l'acqua Ma ovviamente il pozzo è sorvegliato Damir ha perlustrato la zona E dice che potremo infiltrarci senza farci notare Quindi Artyom Quando sei pronto Devi raggiungere Damir Ok Il tuo obiettivo è portare l'acqua all'aurora Il fallimento non è un'opzione Buona fortuna Artyom Io, noi, contiamo tutti su di te Ok Grazie per essere venuto a vedere i ragazzi Non posso fare niente Mi piange il cuore Stepan non ha mai sopportato il caldo Ma qui, senza acqua Non ha mai detto una parola finché è collassato Anche Agliosha è malato Hanno solo bisogno di acqua Ma non so come aiutarli Ok Ah, aspetta Sia Artyom È davvero per me Hurra, grazie Guarda, nonno Jermak Ora ho anche io una borraccia Beh, ora dobbiamo andare a chiedere dell'acqua Così poi avrai la tua riserva privata Cosa sta? Ah, pensavo stesse pisciando Mi dici grazie adesso? No, niente Ok Dove devo andare, mo? E la madonna Qui là in fondo? Con qualcuno? Da solo Che ne pensi della nostra situazione? Artyom Non è bella? Eh? Abbiamo avuto anche ospiti Gli abbiamo dato la nostra migliore accoglienza Quelle bestie si sono fiondate su Stepan e suo tritacarne E lui ne ha maciullate Siamo corsi fuori Ma abbiamo visto solo dei corpi Uno dei corpi era quello di Stepan Ma all'inizio pensavamo che fossero stati quei bastardi Sarebbe bello se si potessi scegliere chi portare con sé Ora devo andare fin là in fondo Mamma mia Ok Quindi devo andare di qua Eeeh No Oh sì No, devo andare Ok, di là Di là, di là Di qua Devo andare a prendere un po' d'acqua Ma intanto guardo anche un po' di roba che c'è in giro Se mai Mamma mia Tipo qua magari c'è qualcosa da luttare Visto che ho trovato armi molto, molto forti Ma è giusto andare di qua, no? No Devo andare a destra Ascoltate tutti Il barone sta per parlare Ho ancora sto barone Ascoltate tutti Parla il barone Bene Solo poche parole Sul canyon vicino alla torsente Dove dei Stepan Senza padrone hanno attaccato i nostri Ivan Per caso la mia parola La forse Può essere C'è gente Ah no Sono Ok No Madonna raga E mo E mo raga Raga È finita E niente Devo andare a piedi raga Non so come muovere Sto Raga è finita È finita Non posso Non posso scendere Oh mio dio Devo caricare L'ultimo Checkpoint Caricamento Rapido Sì Eh ho fatto Una cazzata Raga Una cazzata Delle mie Ovviamente Speriamo che Non mi si sia Salvato qua Ok Non lo prendo più Non so come Non saprei come Aia Aspetta Se uso una granata Eh raga Poi te che guardo No Qua 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 Niente Non si può Neanche distruggere No Eh rimane lì Eh Andrò a piedi raga Ci facciamo una bella passeggiata a piedi E Così via Eh sì Non ci credo che non c'è un modo per sollevarla Vabbè salto Corro e salto Che bella natura che c'è Oddio Che cazzo succede là in fondo Boh Magari si Non lo so Si sbaga Cazzo Potevano mettere un pulsante Per raddrizzarla In qualche modo Ecco Adesso è senza fiato Ah Che cazzo Che cazzo è stato raga Mamma mia Oh Cosa Che cazzo aveva il mio personaggio Oh Interessante Oh che cattivi Oh che cattivi raga Siamo pazzi Cattivissimi Madonna Madonna Che cazzo Si vabbè Mirassi lui Magari Questo Mamma mia Che stronzi Che stronzi raga Ah ma qua c'ero già passato No Ma Cosa devo fare qua raga Andare là a prendere l'acqua Si può prendere Ma porca puttana Oh che palle Oh mamma Che figata però Era in bombo Ecco Vai via brutta bestia Ce n'era un altro Quanti cazzo ce ne sono Merdo Sette colpi Sono tanti raga Sono tanti Eh anche quelli Porca puttana Via 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 Madonna santissima No dove cazzo sto andando Dove devo andare raga Ah di qua Di qua Di là devo andare Porca puttana Sì vabbè buonanotte Di qua giusto Sì sì Mamma mia Vedete non aver Buggato il camioncino Sono un coglione raga State la statela Ok mi sto avvicinando No mi sa che è pieno Sì sì è pieno Ok ok qua è qua è qua No vuole colpire questo Ok Dovrei essere arrivato Di là Madonna Potevo andare raga Là in fondo Dritto per dritto Spero non succeda un casino qua adesso Cos'è sto rumore Ok Sono Kaiser Questi tipo Ok Ma qua ci sono stato Non credo sai Dovrei vedere se c'è qualcosa Da prendere Munizioni magari No Ok Ok buonanotte allora Vediamo Ok è qui C'è questa è una sorgente d'acqua No Qua Qui Oh cazzo Ah ma è un alleato Sorry bro Ah ma è da mir Eh male Mentre eri via sono andato in perlustrazione Qua c'è qualcosa da prendere Sì Questo si apre Sì Cazzo Salire adesso è un casino mi sa No dai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ci sono bro Bene Non si torna indietro Che ci siano nemici Saliamo un po' più in alto per guardarci intorno meglio La grotta non va da nessuna parte Secondo me c'è C'è tanta Tanta gente qua Cos'è? Ho visto un Ah Wow Arrivo Tu da dove passi da lì? Ma va a cagare Io passo di qua Bro Aspita che casino Donna Oh Qua bisogna accendere la lu No Non si va di qua Dove si va? Scusa Eh mo? Cos'è quello? Cosa? Oh Oh Stupidi pipistrelli Mutanti Questo posto è distrutto Quando siamo partiti Speravo di trovare Se non i miei parenti Almeno qualcosa del mio popolo Di qua allora Adesso che ho visto Fa male Eh Capita bro Oddio qua si può andare Madonna E cosa trovo qua? No niente Non trovo niente Non ti incastrare Ti prego Mamma mia Mi ci butti tu? Oh Preparati Artium Carica la torcia Controlla i filtri L'equipaggiamento Ok Ok Un presentimento Non mi sento tranquillo Ma Al diavolo i presentimenti Aspetta Ti do una mano Eh Ti sto aspettando bro Grazie Ah Vieni anche tu Ok Che cazzo Sono sempre da solo Eh La madonna Quindi se casco di qua Non posso più Ah no Posso risalire così Ok Mi sa che l'hanno fatto apposta Se uno volesse Risalire qui Ok Madonna No C'è il Il gigante qua Subacqueo Scommetti Oh 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 Ah io Tambien Ah Un filmato Escolte Che cazzo Ho già finito i colpi Ci voglio credere Non ce ne sono più Bene Continuiamo Porca pupazza Porca pupazza Merdina Porca vacca Ok Madonna Sono tantissimi Cosa si fa Cosa si fa Cosa si fa Cosa si fa Ah Vabbè vado giù io Ok Viene giù tutto No Non volevo ricaricare Madonna Sono tantissimi Cazzo Cazzo Muori Cazzo Eh, per me, ah Raga come salgo Ma vaffanculo dovevo andare di qua Ok ma porca puttana Pensavo di essermi bloccato Vabbè vabbè se non possono venire sti cazzi Qui c'è Che cazzo Ma Prende per il culo Ma se sono passato prima io Merda Buona fortuna E cerca di ammazzare solo gli uomini del petrolio E tu cosa cazzo stai facendo là Non hai sentito che dispari Ok quello vede che non è rosso Ma qua sono visibile Ma non so dove Dove è l'altro In teoria questo non devo ucciderlo Giusto? No 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 Chi 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 Ah quello là Beh quello in teoria è buono Ma sta scendendo Dove è l'altro No vedi che non trapassa Dai girati Oh non si gira Mamma mia Raga Porca puttana C'è 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 Vi rendete conto? C'è Ok Non so se ce n'è un altro qua Ah ma non dovevo andare di qua Ma che cazzo dovevo andare io? No Ah di qua devo salire Ok Mamma mia Ciao Cazzo Quelli per ultimi credo Dov'è quello che era qua? Dov'è l'altro? No, dove? Dov'è? Qua dentro c'è qualcuno Dov'è lo? Una pavorca puttana Dov'è? Ma vabbè raga ma che ne so che Dai ma Cristo! Dai lo stavo per fare tutti Io li ho fatti fuori tutti Ma è indesincato Dai avevo quasi fatto tutto stealth Eh come cazzo apro il cancello scusa? Ah qua Da qua Ok Ok da qua Madonna Ah ci salto sopra? In teoria non ho inciso nessun innocente giusto? Buono Bene Ce ne siamo liberati Forse Bene Almeno non abbiamo fatto male agli schiavi A quanto pare non ci stanno seguendo Cos'è il mio personaggio? Sei stanco? Mi sorprende Va bene Riposati un po' Un po' così Che mori Artium Oddio che cazzo No forse è un sogno Sam Anna A sinistra Stanno avanzando lungo la strada Dobbiamo E facciano una strage qui Forza Ok Non puoi salvare Non puoi salvare ora? Valedetta tempesta di sabbia Sanno come arrivare senza farsi venire Cercano di sfondare con un'auto Usate le granate Che cazzo di arma Non posso colpirli Si può salvare ora? Non posso salvare Orca puttana Aia Madonna Sono potentissimi raga Vediamo se mi ricarica qua Perché non so se mi ha salvato Se mi ricarica qua ci sentiamo la prossima La prossima volta raga Se mai Cioè ci riprovo un'altra volta Ok Ok Come arrivare senza farsi venire Cercano di sfondare con un'auto Usate le granate Baccaboglia raga E' difficilissimo sto pezzo Va bene dai Visto che l'hai salvato Dai ci sentite la prossima volta dai Che almeno me la studio un attimo E non dura una vita questo episodio Va bene? Allora alla prossima raga Bella Bella Ciao 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 Ciao